Sono sicura che se avessi ottenuto un posto, anche in posta, in banca, quello che vuoi, non ci sarei riuscita a stare. Spero di riuscire a cambiare le sorti di un territorio montano che per il momento invece non ci sono ancora riuscita. Secondo me mia figlia non farà il mio lavoro, poi magari lo farà, però non la vedo così appassionata come ero io da piccolo. Tante volte mi dice io voglio andare, vorrei stare in città. La realtà di Zena è molto difficile, il territorio è molto difficile, la gente è molto difficile. Usando la mano l'animale sente la persona, la persona che poi li segue tutto l'anno sente, si sente quando magari si agitano, gli parli, stai ferma, mi sembra meno traumatico. Se sei in stalla tutti i giorni, comunque gli agnelli li vedi tutti i giorni, poi c'è quello a cui ti affezioni di più per ragioni particolari, perché magari la madre l'ha abbandonato, oppure perché non ha abbastanza latte e quindi gli devi dare il biberon. E da quel momento lì è difficile pensare questo lo mando al macerlo, per me è impossibile. E da quel momento lì è difficile. E da quel momento lì è difficile, è difficile pensare questo lo mando al maceraggio, per me èSimone, per me è piaciere questo lo mando al macerro. E da quel momento lì è difficile, è difficile pensare questo lo mando al macerro. Grazie a tutti